Bene gente andiamo avanti con Rush of Blood Questo gioco mi sta veramente divertendo E adesso selezioni il controller di movimento Stendi le braccia come indicato Ah no, ok, e poi premi Ok Eccoci, ci siamo, ci siamo E mi sta veramente divertendo, è immediato È uno shooter su binari Ogni tanto ti fa un po' cagare addosso Ok Ed è veramente divertente Se volete qualcosa di non impegnativo È immediato, è perfetto Entriamo ragazzi Inizia a inventare tutto buio Hotel Poi visto in 3D così è veramente Oh Ma vaffanculo Oh Madonna Oh Oh Dove ho sparare con l'altra arma Fanculo Son morto Eh sì Son morto Ah facciamo così Così Prendo il fucilazzo anche di qua Sto intendo bravo eh Oh Oh Attenzione Schiviamo questo Ah 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 Oh Ragazzi Qua mi sa che sarà una Discesa Oh 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 Wow, che bello E' bellissimo E' veramente bellissimo Sto iniziando a sudare Vorrei togliermi Vediamo Ho cambiato la direzione No Ah, vado di qua Ok, si cambia le direzioni Quindi questo gioco secondo me è divertente Anche da riprovare più volte Wow Ragazzi, che bello Maledetti corvi Ah, là c'è qualcosa Ah, non l'ho preso Siamo all'hotel Siamo all'hotel Mi sa di imboscata tutto questo Ah, vaffanculo Sì, ma così mi fate venire un infarto Oh, ma siete pazzi? Maledetta stronza Mamma mia Mamma mia Oh, ma muori Mamma mia ragazzi Mi sto cagando addosso Mi sto cagando Letteralmente Oh, ma non è Oh, ma non è Oh, ma non è Oh, ma non è Oh! Vaffanculo, stronza! Mo' arriva! Oh cacchio! E questo? Ah! Uff! Dai, ho aperto la porta! Fammi salire su! Forse avrei dovuto sparare a qualche... Uff! ... 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 … ... ... ... ... ... ... ...